Padova è una realtà bellissima, la conoscevo parzialmente e la conoscevo per motivi professionali anche. Alle idee chiare su Padova il nuovo prefetto Francesco Messina, 62 anni, superpoliziotto catanese, già direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, capo del centro SIS da Palermo e anche questore di Torino, capo della squadra mobile di Milano. L'Italia, come ha detto, in 36 anni di carriera e con 11 trasferimenti l'ha traversata con diversi ruoli per ben due volte. Runner incallito proprio nella città del Santo ha raggiunto il suo record personale, 3 ore e 44 minuti. Qui la sua corsa ripartirà dalla sicurezza spalmata. La sicurezza spalmata è la sicurezza in cui il cittadino è parte della squadra che fa sicurezza e questa è una realtà dove il cittadino può partecipare alla sicurezza. Tre primi nodi da sciogliere la crisi politica del comune di Selvazzano dentro a rischio commissariamento. Ci sono degli interessi in gioco, bisogna tutelare anche l'espressione del voto democratica e popolare, bisogna tutelare anche il rispetto delle norme. Dobbiamo trovare nel giusto contemperamento di questi interessi una strada. Se poi non ci dovessero essere prospettive, il prefetto si muoverà secondo quanto la legge prescrive. E poi il tema della trascrizione dei figli delle famiglie monogenitoriali. Come ha fatto il mio precessore, seguirò le vie maestre.